Cari fratelli e sorelle, la liturgia d'oggi parla della gloria della Gerusalemme del Cielo, la Gerusalemme celeste. Vi invito a pregare perché la Città Santa, cara a ebrei, cristiani e musulmani, che in questi giorni è stata testimone di diverse tensioni, possa essere sempre più segno e anticipo della pace che Dio desidera per tutta la famiglia umana. Papa Francesco ha guidato la recita dell'Angelus nella solennità di tutti i Santi e ha chiesto di pregare per la pace, affinché gli uomini comprendano di far parte di un tutto senza tempo. Una famiglia che si staglia tra cielo e terra e che è possibile comprendere più approfonditamente proprio nei primi giorni di novembre, quando celebrando tutti i Santi e commemorando i fedeli defunti si può riflettere sulle cose ultime della vita. Ricordando la messa che celebrerà nel pomeriggio al cimitero del Verano, il Pontefice ha chiarito che la comunione dei Santi nasce dalla fede e unisce tutti coloro che appartengono a Cristo in forza del Battesimo. Si tratta di un'unione spirituale che non viene spezzata dalla morte, ha proseguito, ma continua nell'altra vita, legandoci a uomini e donne comuni, semplici, a volte ultimi per il mondo, ma primi per Dio. Dopo la preghiera a Mariana, il pensiero di Papa Francesco è corso in Spagna per la beatificazione del martire Pietro a sua Mendia, sacerdote umile austero che predicò il Vangelo con la santità di vita, la catechesi e la dedizione verso i poveri e i bisognosi. Grazie. 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 Grazie.